Un cittadino italiano di origini marocchine è stato sorpreso a svolgere l'esame teorico per il conseguimento della patente di guida munito di un'attrezzatura elettronica che gli consentiva di ricevere da remoto le risposte al quiz somministrato. Il candidato già più volte bocciato in precedenti sessioni d'esame aveva con sé uno smartwatch con telecamera con cui inquadrare il monitor dove apparivano le domande a risposta multiple e un cellulare per il collegamento alla rete internet con cui trasmettere le immagini insieme a un secondo telefono su cui ricevere le risposte. Il 32enne aveva con sé anche un micro auricolare da cui ascoltare le risposte giuste suggerite dall'esperto. L'attività di indagine coordinata dalla Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile di Pesaro ha consentito di individuare all'esterno della motorizzazione civile, luogo in cui si è tenuto l'esame, due soggetti entrambi incensurati che avevano fornito al candidato l'attrezzatura necessaria oltre ad aver organizzato tutto il supporto logistico per i collegamenti telefonici e telematici con un terzo soggetto non ancora identificato. Queste persone hanno dimostrato un altissimo livello professionale e competenza. Erano dotate del disinfettante, delle pinzette per l'estrazione di questo micro auricolare che è pressoché invisibile a uno sguardo sommario. Sicuramente le indagini proseguiranno anche perché riteniamo di aver individuato una punta di un iceberg e che necessariamente va approfondito. Dalle indagini è emerso che il prezzo pagato dal candidato per l'operazione è stato di 3.500 euro, somma posta a sequestro. I due soggetti identificati, di cui un pugliese residente a Tavuglia di 56 anni, considerato il contatto locale con il candidato e l'altro residente a Caserta, individuato come soggetto che ha fornito ed attivato l'attrezzatura elettronica, sono stati ad entrambi contestati insieme al candidato stesso la violazione dell'articolo 1 della legge 475 che costituisce reato comportando pesanti ricadute sulla sicurezza stradale, considerando che l'illecita attività favorisce il rilascio di autorizzazioni a condurre i veicoli a soggetti non idonei. Dare la patente a persone che non conoscono la lingua italiana e che non conoscono i nostri cartelli stradali è un grosso pericolo. In questo caso era una patente B, perciò era solamente per l'autosuotovettura per andare e tornare dal posto di lavoro. Ma pensiamo se fosse stata una patente professionale, una patente per i mezzi pesanti, che poteva portare tir, macchine agricole, macchine di qualsiasi genere, di qualsiasi grandezza. Molto preoccupante questa situazione.